esatto che facciamo gabbe questa è una nave che ispira ispira poco grazie 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 no stavo stavo ascoltando un video state dicendo no c'è buddy cool con noi le ha segnato l'età parella adesso capito il video di quella sì ma antipatica sì quello che guardo anch'io però sai se ne sono di più bella proprio giù gli arrivano le ginocchia davanti davanti a noi cena musashi quelle senza antiaere quella ti ci puoi divertire eppure sola adesso sento anch'io deco o città del lato il tipizio di punta ma roba da amati poi di fianco le navi overpen o rimbalzi tutto ciò che tutto fumato è l'ha appena letto e ma le giapponese e così a quando avanti a me c'era uno spottino poi andare a vedere se sta avendo verso di me non lo vedi stato sfruttato hai riconcentrato sulla musashi so io si che sfruttano la città Sì Ma di là ci sono due corazzate ci sono Mi hai fatto vedere jesi duro e tanta roba Sì Sì L'importante è che non ci sono Torpedo Eccolo dove Sì lo vedo Cazzo Ho fatto dove vale S'abbastardo Perfetto Sì Sì Non si avvicinano questi che mi stanno dietro Sì Sì Dai E va di costare il pubblico non fare il timido Metti gli aerei qui su di noi Sì 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 Sì